Il bluca di Montefeltro Prestige è una versione particolarmente curata, direi di prestigio evidentemente di uno dei classici di Benelli, cioè il Montefeltro che è in semiautomatico inerziale per eccellenza e direi più tradizionale in questo momento di Benelli. La caratteristica è piuttosto evidente dalla carcassa, una finitura molto curata dal punto di vista delle incisioni che sono realizzate dalla bottega Giovannelli con particolari in oro, due fagiani su questo lato e un setter in ferma sull'altro lato. Dopodiché ci sono altre incisioni floreali che decorrono il resto della carcassa e c'è anche naturalmente il nome Prestige, anche questo rimesso in oro elettrolitico. Calciatura FX Wood di Benelli, quindi anche qui un noce nobilitato, tappo nichelato come per nicalatura è finita la carcassa, due tipi di canne 65-70 cm e due calibri, questo è il calibro 20, c'è anche il calibro 12 con la stessa finitura e la cosa importante da dire è che comunque ne verranno realizzati pochi esemplari in tutto pare 400, quindi chi vuole puntare su un cucile prestigioso come appunto Duca di Montefeltro Prestige bisogna che accorra. Grazie. 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 Grazie.